ciao a tutti benvenuti e bentornati in questo nuovo video oggi andiamo a fare il video legato alla data di nascita della nostra amica che gentilmente nella scritta e che io devo punto trovare 11 77 primo gennaio 1977 vediamo un po eccoci qua l'abbiamo trovata allora andremo anche a vedere poi con due mazzi di carte molto particolari alcune diciamo altre curiosità ecco allora devo trovare gli occhiali fondamentali questo è vuoto e qua ci dovrebbero essere allora il primo gennaio è il giorno dell'organizzatore emotivo ma questi occhiali non vanno bene allora primo gennaio giorno dell'organizzatore emotivo i nati il primo gennaio sono tipi autoritari che amano dare struttura e organizzazione alle cose e si sentono in dovere di impartire ordini sia sul lavoro sia a casa dimostrano quasi sempre molto zelo in tutto ciò che fanno attribuiscono un ruolo estremamente importante all'istruzione sono inclini ad agire seguendo fedelmente le proprie convinzioni tuttavia quando devono soddisfare la propria ambizione tali principi talvolta intralciano i progetti personali infatti sebbene desiderino arrivare in alto sono individui troppo onesti e leali con troppo senso dell'onore per riuscirci e proprio perché danno tanta rilevanza all'aspetto strutturale se si attengono rigidamente alle regole rischiano di rimanere intrappolati nella loro stessa ortodossia la loro soglia di frustrazione piuttosto bassa ed è proprio qui che in genere si rivela in tutta la sua pienezza la loro natura fortemente emotiva la loro personalità si presenta complessa e contraddittoria per esempio sebbene sono dotati di un forte senso di responsabilità capita tuttavia che arrivino ad accettare più incombenze di quante siano effettivamente in grado di sbrigarne e ancora sebbene emotivi l'estrema sensibilità può avere il controproducente effetto di inibirli e di inibirli a tal punto da impedire loro di esprimere ciò che provano infine benché abbiano nella maggioranza dei casi vedute piuttosto aperte a volte danno l'impressione di essere al contrario conservatori per non dire reazionari soprattutto però appaiono lacerati da terribili dissidi interni nei quali subiscono l'assedio costante di forze che vanno ben al di là delle proprie capacità di controllo quanto alla carriera è di fondamentale importanza che a un certo punto della vita si fermino a riflettere seriamente sugli obiettivi che vogliono raggiungere nel loro campo in seguito dopo aver considerato attentamente tutti i pro e i contro è opportuno che tentino una valutazione realistica delle effettive possibilità di successo stabilendo gli scopi in base al risultato di tale analisi gli obiettivi a breve o a lungo termine devono essere ben definiti e a volte determinano un certo ritmo bisognerebbe mantenerlo costante se dovessero decidere di arrivare in cima indispensabile che si assicurino prima di avere sufficiente capacità di resistenza agli stress pazienza e abilità nel controllare le proprie emozioni l'estrema sensibilità è un punto a loro sfavore poiché li rende impazienti e difficili specie se lavorano alle dipendenze altrui con gli amici e quando guidano altre persone per esempio come insegnanti essi risultano spesso affascinanti molto amati ed efficienti al tempo stesso se tuttavia i loro progetti di carriera prevedono la scalata al vertice di un'azienda o comunque l'inserimento in un ambiente estremamente competitivo sarà allora davvero il caso di corazzarsi stabilendo tutta una serie di pulsanti che soltanto loro o pochi altri possono premere solo così potranno evitare che la loro emotività danneggi gli sforzi compiuti è indispensabile che i nati il primo gennaio imparino a non pretendere tutto e subito da se stessi e degli altri finendo per trasformare delle aspettative troppo grandi in altrettanti e grandi delusioni perché si considerino concreti e pragmatici devono accettare anche i loro ideali romantici e la necessità di realizzarli la chiave per avere successo ed essere felici sta nel vedere in modo realistico la propria profonda e complessità emotiva andiamo a vedere che cosa abbiamo trovato allora le persone nate il primo gennaio 1977 sono particolarmente affascinanti dal punto di vista numerologico esoterico spirituale le caratteristiche che le contraddistinguono sono uniche e influenzate dalla numerologia presenti nella data di nascita la somma dei numeri da appunto il 26 che con riduzione arriviamo al numero 8 il numero 8 è considerato un numero di grande potere di leadership spirituale chi è nato il primo gennaio 77 di solito una persona ambiziosa determinata e con una grande forza di volontà questi tratti di personalità associati al potere numero 8 li rendono spesso leader naturali intraprendenti le persone con questa data spesso si sentono attratte dalle questioni spirituali esoteriche profondamente curiose riguardo al mistero dell'universo e cercano di comprendere il significato più profondo della vita possono essere inclini alla meditazione alla pratica dello yoga e studiare varie discipline spirituali creativi e originali sono altre caratteristiche comuni per coloro nati in questo giorno questi individui hanno una mente aperta e sono pronti a esplorare nuove idee e concetti sono anche abili nel trovare soluzioni innovative ai problemi e intuitivamente sanno da sanno quando agire l'ambizione può portarli talvolta essere dominanti e a voler esercitare il controllo su situazioni e persone intorno a loro è importante che imparino ad equilibrare la loro energia e a utilizzare per il bene e utilizzarla per il bene comune evitando di diventare troppo autoritari e egocentrici è un privilegio in quanto possiedono un grande potenziale spirituale e di intuizione possono canalizzare queste energie creare una vita significativa e raggiungere il successo sia a livello materiale che spirituale il segno zodiacale il capricorno che è nato il primo gennaio 77 un individuo che possiede una combinazione interessante di tratti astrologici questa persona è governata dal segno del capricorno il che significa che è ambiziosa determinata e concentrata sugli obiettivi il loro pianeta governatore e saturno che conferisce stabilità perseveranza e senso del dovere le persone con questa data di solito sono molto responsabili e orientate al successo sono lavoratori stancabili e sanno cosa devono fare per raggiungere i loro scopi il loro forte senso dell'organizzazione e la disciplina li porta spesso a posizione di comando sono altamente fiduciosi nelle proprie capacità e spesso agiscono come mentori o guide per gli altri sono anche conosciuti per la loro grande determinazione nel superare gli ostacoli che incontrano lungo il cammino questi individui possono essere anche introversi e tendono a tenere le proprie emozioni per se stessi possono sembrare serie riservati agli altri poiché concentrano la loro energia nel lavoro e nel raggiungimento dei propri obiettivi le persone nate con questa data sono anche molto attente alle loro finanze e sono solitamente capaci di gestirle in modo responsabili sono abili nella pianificazione finanziaria e nel risparmio per le relazioni queste persone possono avere difficoltà a connettersi emotivamente con gli altri tuttavia quando trovano un partner che riesce a sfondare le loro barriere emotive sono fedeli e dedicati spesso cercano una relazione stabile e sicura le persone con questa data sono ambiziose disciplinate e concentrate nella realizzazione dei propri obiettivi sono spesso considerate leader naturali e si dedicano con tenacia alle proprie ambizioni la donna capricorno è un segno di terra governato da saturno queste donne sono caratterizzate da un mix di saggezza determinazione e praticità è conosciuta per la sua forte volontà e disciplina sono molto ambiziosi e si danno sempre obiettivi da raggiungere sono disposte a lavorare duramente per ottenere ciò che vogliono e non si scoraggiano facilmente di fronte alle sfide la lealtà è una delle loro più grandi virtù una volta che la donna capricorno si lega emotivamente a qualcuno sarà leale e fedele fino alla fine hanno una grande capacità di prendersi cura delle persone che amano e sono sempre pronte ad aiutare gli altri le donne capricorno sono estremamente pratiche ed efficienti amano organizzare e pianificare ogni aspetto della loro vita sono molto responsabili e difficilmente commettono errori questa caratteristica le rende eccellenti sia nel mondo del lavoro che nelle relazioni personali l'intelligenza e la saggezza sono altre qualità che contraddistinguono queste donne amano apprendere e sono sempre alla ricerca di nuove conoscenze sono molto razionali e razionali nel prendere decisioni sono in grado di vedere le cose da una prospettiva obiettiva la donna capricorno è anche molto paziente sanno che il successo richiede tempo e si dedicano a raggiungere i loro obiettivi senza fretta sono capaci di sopportare momenti difficili e si dimostrano forti anche quando le cose vanno male tuttavia può anche essere molto riservata ed è difficile ottenere la sua fiducia hanno bisogno di tempo per aprirsi completamente agli altri preferiscono mantenere un certo grado di distanza emotiva nonostante ciò una volta che si fanno strada nel loro cuore saranno dei compagni fedeli e affettuosi in conclusione la donna capricorno è una persona ambiziosa leale pratiche saggia con la sua determinazione e pazienza in grado di raggiungere grandi risultati nella vita questo è tutto quello che abbiamo trovato per quanto riguarda il primo gennaio 77 adesso andiamo a vedere qualche curiosità con questi due mazzi di carte particolari uno lo conoscete già sono vite passate e uno è gli oracoli genealogici intanto andiamo a prendere una carta per quanto riguarda vite passate vediamo sempre per questa data di nascita 1 177 vediamo un po' e poi ne andiamo a prendere un'altra dell'oracolo genealogico vediamo geniale oracoli genealogici vediamo un po' allora per quanto riguarda vite passate abbiamo spiritualità e religione e vediamo che cosa ci dice spiritualità e religione vediamo un po' eccoci qua allora molto piccolo scritto logicamente l'anima di ciascuno gode di varie esperienze e opportunità per cui è molto comune esplorare vari percorsi religiosi e spirituali durante il nostro viaggio attraverso le esistenze mentre la crescita e la conoscenza spirituali si accumulano nel corso di ogni vita il percorso spirituale o religioso specifico è diverso in ognuna di esse forse la religione nella quale sei cresciuto non coincide con la tua vera fede riconosce riconoscerlo può innescare un senso di colpa di paura o di vergogna finché non arrivi a essere consapevole del quadro generale il sapere spirituale è racchiuso nella tua anima e tu sei un essere eterno che sarà per sempre legato alla infinita saggezza di dio questa carta ti chiede di esplorare parti percorsi spirituali e religiosi alternativi lì troverai la pace interiore e le risposte che cerchi questo è per quanto riguarda vita passata per gli oracoli genealogici psicogeneologia mi collego all'anima della mia famiglia antica e scopro cosa abbiamo in comune come se fosse una ricerca spirituale legata ad alcune particolarità che legano la famiglia di ognuno di voi che ha questa data di nascita bene io ringrazio la nostra amica che mi ha dato l'opportunità di fare questo video scrivendomi la sua data di nascita vi ricordo che potete scrivere la vostra data solo ed esclusivamente al mio numero whatsapp che trovate sotto ogni video io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo alla prossima